Mi chiamo Thomas Centaro, vivo a Milano dove dal 2000 lavoro come attore, doppiatore e presentatore. Per il teatro ho recitato in più di 30 spettacoli spaziando tra generi e epoche diverse. In veste di autore e regista ho dato vita a 12 spettacoli teatrali, di cui 5 musical, 2 drammi, 2 commedie e 3 one-man show. Ho interpretato piccoli ruoli in sitcom e fiction fino al 2004. Dopodiché mi sono spostato dal set al microfono. Mi senti? Sì. Ho doppiato il personaggio di Frody nella serie Vikings. Frody, che cosa vuoi? Tutti quanti fanno finta che la morte di Thorgrim sia stato un incidente. Non è stato un caso. Voi l'avete ucciso. Voi avete ucciso mio fratello. E voglio ricordare a entrambi che io so la verità. Solamente tu puoi farci vincere in questa partita. Solamente tu puoi ribaltare la situazione. Coraggio! Sì! Ho prestato la voce a decine di campagne pubblicitarie e nazionali. E dal 2019 sono anche narratore di audiolibri. Cercando Beethoven. Letto da me. Thomas Centaro. Conduco programmi di intrattenimento sia in radio che in tv. Adesso noi iniziamo con la musica e poi entriamo nel vivo di Happy Life. Io sono Thomas Centaro, noi ci sentiamo domani. E ad oggi ho potuto lavorare in 19 paesi del mondo nel settore MICE. Meeting, Incentive, Convention and Events. Sia in italiano che in inglese. Ho sempre avuto il coraggio di sognare ma sono anche molto pragmatico. Per me declinare la recitazione in diversi ambiti significa cogliere diverse opportunità. Il mio sogno fino a qualche anno fa era fare questo mestiere quotidianamente. Oggi sogno di tornare nuovamente sul set, magari interpretando un personaggio iconico in un film o in una serie tv. Io sono pronto. Grazie per aver guardato questo video. Trovi tutte le informazioni su di me sul sito www.thomascentaro.com A presto. Grazie per aver guardato questo video.